Prosegue il tour del Governatore Paolo Frattura impegnato ad illustrare il programma operativo straordinario 2015-2018 contenente la nuova programmazione del Servizio Sanitario Regionale per i prossimi anni. Nella serata di ieri il dibattito si è spostato a Termoli, un confronto partecipato che ha visto la presenza di cittadini rappresentanti del Comitato Santimoteo, amministratori locali, direttori sanitari, medici, infermieri e ausiliari. Un incontro dai toni nel complesso pacati ma in cui era evidente l'angoscia e la preoccupazione di circa 50 ausiliari della sanità che si aspettavano delle risposte che però non sono arrivate. E così questa mattina una delegazione composta per lo più da donne ha protestato in via Genova davanti la sede di Palazzo Vitale. Per loro dopo una breve proroga nessuna prospettiva. In base alla nota circolare Fadda con 36 mesi di servizio maturati a fine ottobre 2013 si ha diritto alla stabilizzazione dopo una proroga per tutto il 2016. Requisito però non posseduto da tutti e che Molise ha escluso proprio gli ausiliari dell'azienda sanitaria regionale. Beffati ora anche dall'emendamento alla legge di stabilità approvato a fine anno che ha prorogato i contratti ai precari in servizio al 31 dicembre ma loro in quella data in servizio non lo erano più. Contavamo sul decreto Renzi per un altro anno di proroga fino al 2016 ha spiegato ai nostri microfoni Elena Sautariello ma a causa del disavanzo sanitario del mancato raggiungimento degli obiettivi non è stato possibile rinnovare i contratti. Ieri comunque voglio anticipare che ieri ho partecipato a un convegno a Termoli che si parlava proprio della diciamo come si dice organizzazione della sanità e allora avendo saputo che nonostante non avevano i requisiti alcuni infermieri dovevano uscire il 31 dicembre noi a luglio siamo usciti perché hanno detto che non c'erano non lo so non potevano più fare delle proroghe nonostante il 2013 è uscita la legge Renzi per far sì che potessimo completare i 36 mesi mentre invece per gli infermieri non c'è stata questa cosa e quindi hanno fatto un rinnovo di questa hanno fatto di nuovo la proroga mi sembra fino a luglio. Ora voglio capire se è in atto ancora questa legge Renzi o è stata eliminata e perché la legge sulla stabilità che è stata il 31 il 30 dicembre e dice con questa legge ci possono essere di nuovo le proroghe ieri ho parlato sia con il presidente Frattura che non mi ha saputo dare delle risposte ma bensì mi ha fatto parlare poi col direttore Pierazzoli e anche il direttore ha dato delle risposte discordanti tra loro cioè non si è capito niente di quello che mi ha detto perché dice no loro già stanno è uscita la legge loro già stanno in servizio e quindi possono rimanere noi che siamo usciti non possiamo essere reintegrati. C'è una sola ausiliaria che veniva dal gruppo precedente di 8 mesi più 8 noi invece eravamo quelli di 12 più 12 è stata ripresa con un nuovo contratto di 12 mesi quindi ha fatto 28 mesi proprio in virtù del fatto della legge Renzi lei era uscita da poco è l'unica e le altre colleghe purtroppo hanno detto la legge legge non sono potute rientrare quindi noi chiediamo questo di essere reintegrati per completare almeno i 36. mamme con figli a carico giovani donne dal primo agosto senza lavoro dopo tanti sacrifici e spostamenti. Io personalmente ho tre figlie da sola e non so cosa fare poi è così come me e tutte le altre colleghe mie saremo in grande difficoltà. Ci sentiamo abbandonati spiegano e non tutelati anche dai sindacati che hanno difeso solo la classe medica infermieristica. Gli ausiliari chiedono lo stesso trattamento di chi indipendentemente dai requisiti posseduti ha ottenuto la proroga del contratto e la successiva possibilità di essere stabilizzato di partecipare ai concorsi. Loro invece confidano ai microfoni spenti durante il presidio sono stati sostituiti dal personale fisso in organico in possesso della stessa qualifica ma prima adibito a mansioni diverse e poi spostato dagli uffici alle corsie. Non ci fermeremo annunciano le ormai ex lavoratrici che in tarda mattinata hanno chiesto e ottenuto un incontro con il direttore generale dell'ASREM Mauro Pirazzoli, un colloquio che non ha dato i frutti sperati ma loro non mollano e annunciano battaglia.